Questa sera purtroppo non è andata affatto bene ma come era abbastanza presumibile visto l'assenza di Gasparini però non mi piace giustificarmi dietro il fatto che abbiamo tre ragazze fuori perché non ha senso, mi dispiace perché chi dovrebbe dar qualcosa in più visto l'assenza di qualche Duna non l'ha fatto e anche magari chi ha l'opportunità di dimostrare qualcosa visto che viene magari convocata in Serie C lo fa a sprazzi. Ora parlando della partita devo dire che siamo partiti molto bene inizialmente con Rossi in battuta e ci siamo portati sul 6 a 1, poi anche qualche vicitudine del segnapunti elettronico che si impallava e quindi spesso ci ha interrotto e questo magari ci ha indotto a pensare che il set fosse facile tant'è che siamo comunque arrivati sul 24 a 20 per noi e ci siamo piantati in P2 dove Marinoni non riusciva a cambiare palla. Questo è un dato, è un evidente dato che non è solo da oggi ma è da qualche partita dove Marinoni sta facendo fatica e oggi devo dire che si è visto effettivamente i limiti che ha in questo momento anche se poi nel terzo set ha avuto una bella reazione quindi sono contento di questo. Il secondo e il terzo set siamo completamente spariti dal gioco, chiaramente ho fatto un po' di sostituzione, qualche 2005 che è entrata come la Betta e anche Villa che è esordito oggi in Serie C e devo dire che si è comportata bene soprattutto in ricezione perché nel terzo set ha fatto tre ricezioni consecutive palla in mano con tre cambi palla immediati quindi brava, l'atteggiamento mi è piaciuto, magari qualche difficoltà per quanto riguarda l'attacco ma ci sta. Ci portiamo a casa a questo risultato negativo con molto rammarico sperando che ci faccia un po' reagire perché quello che ho visto oggi è stato anche proprio un atteggiamento brutto di non voglia nel lottare per ottenere un risultato. Ci siamo rifugiati dietro a degli alibi e questo non è assolutamente l'atteggiamento di una squadra che vuole essere vincente.